nuova puntata del tg focus di cusano news 7 canale 234 del digitale terrestre con questa ovviamente ora che passeremo assieme cercheremo di fissare la nostra attenzione su tematiche oggi relative alla politica estera mentre domani torneremo un pochino più nei nostri confini anche perché oggi è una giornata importantissima visto che netanyahu sta volando anzi ormai è praticamente arrivato negli states negli stati uniti per incontrare non so se ci sarà questo meeting con joe biden visto che il presidente in carica attualmente in carica americano è si trova in isolamento per via del covid ci dovrebbe essere anzi leviamo il condizionale usiamo il l'indicativo ci sarà sicuramente l'incontro il contatto un primo contatto con kamala harris che dovrebbe diventare la candidata forte del del movimento del partito democratico per quanto riguarda ovviamente gli impegni istituzionali di benjamin netanyahu che sta cercando anche di organizzare un summit anche con donald trump però non prima di giovedì probabilmente ci potrà essere un contatto tra i due visto che trump è impegnato in north carolina proprio a causa degli impegni relativi alle elezioni di novembre duemila e ventiquattro parleremo di questo avvalendoci di uno di un aiuto molto molto importante intanto vado a salutare la prosproduzione saluto anche la nostra regia e vado a salutare anche il nostro ospite del cespi analista geopolitico mattia giampaolo mattia benvenuto visto che è la prima volta qui da noi grazie grazie per l'invito allora benvenuto e speriamo sia un bel esordio perché per te qui sul nostro canale cercherò di metterti al tuo agio anche perché poi parliamo di questioni che conosci a menadito e poi partirei proprio da ecco utilizziamo sempre come titolo l'introduzione praticamente del nostro programma netanyahu negli states ecco proprio alla vigilia di questo viaggio ieri in aeroporto proprio prima di imbarcarsi ha parlato netanyahu proprio dei rapporti con gli stati uniti d'america che secondo il premier di tel aviv non cambieranno mai e poi mai a seconda poi del di chi sarà il presidente americano ecco sono secondo te dichiarazioni queste da parte di netanyahu dovute comunque alla al fatto che comunque si sta avvivendo in un periodo particolare negli states o sta cercando di di ritrovare una relazione che sembra essere un po compromessa con il partito democratico allora innanzitutto la visita di netanyahu rappresenta ancora una volta il forte legame che c'è tra gli stati uniti e israele ricordiamo che israele almeno dal 1967 un partner strategico per per gli stati uniti per la sicurezza della regione e per insomma la protezione anche di quelli che sono e erano gli interessi statunitensi e nella regione del mondo arabo se così possiamo definirla ovviamente e si hanno due situazioni abbastanza e non propriamente stabili così così possiamo vedere due situazioni che mi riferiscono normalmente a la situazione in israele e nella situazione negli stati uniti in vista delle elezioni presidenziali le parole in realtà di netanyahu si da un lato ovviamente rappresentano e diciamo delle parole di circostanza no che sia insomma si che si avvicina a una visita è ufficiale tra l'altro come si ricordava probabilmente e incontrerà camara erris e non joe biden anche se e tuttavia insomma abbiamo visto che i rapporti tra e tra biden e netanyahu in questo ultimo periodo sono stati da un lato appunto hanno confermato questa stretta relazione dall'altro ovviamente e sono stati anche un po tesi per via delle delle azioni dell'esercito israeliano e a gaza ovviamente le parole di netanyahu rappresentano anche diciamo una sorta di di guardare a quella che sarà quello che saranno gli stati uniti nel post periodo elettorale e ovviamente i riferimenti ieri ha detto espressamente io parlerò con qualsiasi presidente degli stati uniti non ho alcun problema di parlare con una o con l'altra parte e questo proprio perché appunto rappresenta un momento cruciale e dal punto di vista israeliano dobbiamo anche comprendere che la situazione interna di netanyahu non sia poi così eh stabile ovviamente una spalla forte come quella degli stati uniti è quanto mai eh strategica ad oggi visto anche vista anche la debolezza del dello stesso netanyahu a livello interno abbiamo visto le manifestazioni eh di questi giorni all'aeroporto di telaviv che ci sono state appunto manifestazioni per appunto cercare di quello che chiedono i manifestanti era non andare negli stati uniti ma cerca di riportare invece gli ostaggi a casa questo in un qualche modo rappresenta ora di là poi delle eh delle domande delle delle richieste dei manifestanti però rappresenta appunto questo questo contesto interno che è tutt'altro che che è stabile ed è ed è importante poi un momento cruciale dove appunto le elezioni americane eh probabilmente con l'uscita di joe biden dalla dalla corsa elettorale e l'entrata di Kamala Harris all'interno eh alla probabilmente alla candidatura come come presidente beh di fatto costringono anche netanyahu a rivedere un po' le sue le sue eh posizioni ovviamente ripeto gli Stati Uniti sono un partner strategico eh per Israele e Israele è un partner strategico per gli Stati Uniti poiché appunto che che se ne dica insomma tutta la narrativa su il ritiro statunitense dalla regione e diciamo una sorta di concentrazione nel nel quadrante del Pacifico tuttavia però resta ovviamente un interesse forte statunitense l'abbiamo visto insomma soprattutto all'indomani del del 7 ottobre un forte interesse statunitense a mantenere una una stabilità che appunto non sfoci poi in un allargamento del conflitto e questa è probabilmente la la preoccupazione maggiore dell'attuale eh dell'attuale eh amministrazione statunitense però ecco proprio su questo eh comunque c'è da registrare il fatto che eh la Harris visto che stiamo parlando dei rapporti tra democratici e netanyahu perché poi verterà tutto su questo eh praticamente il viaggio di eh del del primo ministro israeliano eh la Harris è sempre stata molto critica con Netanyahu eh gli ha dato la responsabilità di quanto sta accadendo eh a Gaza ha parlato di pari dignità da assegnare e da riconoscere a popoli israeliano e da popolo palestinese ha parlato di due stati due popoli e due stati quindi praticamente ha toccato tutti argomenti tutte tematiche eh mettono in grossa difficoltà e che eh praticamente Netanyahu guarda con eh assoluto disprezzo specialmente la la vicenda dei due popoli e due stati quando lui vorrebbe eh praticamente distruggere la massa e controllare direttamente la striscia di Gaza e quindi se le due posizioni sono così distanti come si può arrivare ad una conciliazione tra le due posizioni. Ah questo anche dovrebbe essere eh a mio avviso e seguendo insomma eh la questione palestinese, il conflitto israelo palestinese un po' più da vicino anche dalla eh dal contesto in cui eh anche in cui agiscono i i due attori in questo caso no? Le parole di Kamala Harris in realtà sono spiegabili anche soprattutto nel nel periodo e nel contesto in cui vivono oggi gli Stati Uniti. Noi sappiamo benissimo che gli Stati Uniti hanno eh hanno insomma abbiamo visto che negli Stati Uniti è stata un'ampia mobilitazione all'interno delle università, all'interno eh nelle nelle strade, nelle piazze a fuori della questione palestinese. Sappiamo anche qual è il ruolo di un certo elettorato nel campo democratico eh soprattutto insomma di origine arabofana ma non solo e e questo in un qualche modo rimanda e costringe anche il campo democratico a rivedere un po' le sue posizioni rispetto alla questione palestinese. Ora gli Stati Uniti eh rispetto alla risoluzione del conflitto, al cosiddetto processo di pace, quello che insomma si avviò da metà degli anni ottanta fino insomma ai primi anni duemila eh eh hanno sempre avuto una sorta di convinzione nella soluzione di due stati eccetera eccetera. Ovvio è che con questo, con il governo Netanyahu e con insomma la l'obiettivo ultimo quello di distruggere la massa ma non solo e appunto è è è proprio quello di eh in un qualche modo si contrastare questa questa eh diciamo questa posizione. È ovvio che ci sono frizioni eh strategiche anche in termini eh tra eh Netanyahu e eh il campo democratico. Però il campo democratico in questo preciso momento deve fare i conti con tutto un elettorato che è stato molto critico e su ehm le posizioni assunte almeno inizialmente poi pian piano insomma un po' più eh addolcite se così si possiamo dire nei confronti eh nel 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 sostegno ad Israele no? Proprio perché appunto nel nel campo elettorale l'elettorato eh diciamo arabofono e ripeto non solo arabofono e e è molto è molto molto importante e questo in termini elettorali ovviamente ha un certo effetto anche sulle posizioni espresse. Resta il fatto che ne sono insomma abbastanza convinto e e restando proprio perché appunto uno ha seguito molto da vicino queste queste dinamiche è il fatto che ovviamente ciò non si traduce in un ehm allentamento del sostegno americano e anche sulle eh nella in questa diciamo operazione di Netanyahu a a Gaza. Questo a mio avviso è eh resta resta molto resta molto centrale insomma sì quindi bisogna tenere insieme queste due questi due fattori. Senti parlavano eh si parlava si parlava eh che eh Netanyahu stesse aspettando volesse comunque arrivare necessariamente prima di eh mettersi al tavolo seriamente con eh con i palestinesi per cercare di arrivare ad una ad un accordo di di pace e ovviamente alla liberazione degli ostaggi ehm c'è chi dice che Netanyahu stia aspettando proprio le elezioni di novembre duembre 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 e ventiquattro negli States. Credi sia un'ipotesi reale o è una forzatura? Ma eh in realtà eh si diceva anche in questi giorni che i colloqui diciamo per una un cessato del fuoco e la liberazione degli ostaggi sarebbero ripresi a breve eh con la mediazione come abbiamo visto in questi ultimi eh tempi di di Egitto ovviamente Stati Uniti e Qatar e emissari israeliani e probabilmente si eh si avranno ma non avranno un esito molto positivo a mio avviso questo perché eh in prima battuta eh è vero le elezioni americane saranno cruciali perché sappiamo cosa vuol dire ad esempio una eh una vittoria un'ipotetica vittoria eh di Donald Trump che è insomma l'autore poi no di questi eh accordi di normalizzazione con i paesi arabi e questo suo forte sostegno a a ad Israele e invece una vittoria eh democratica che al di là ripeto delle delle posizioni espresse mantiene ovviamente una relazione stretta con con Israele. Ovviamente ehm questo è anche legato eh a tutta una serie di dinamiche regionali no che si stanno che si stanno avendo. Noi insomma abbiamo visto un po' in questi giorni eh gli attacchi ad esempio dei youth e la risposta israeliana nel nello Yemen così come tutta una serie di eh che vanno avanti praticamente da decenni e di scambi di di eh eh tra il la regione meridionale del Libano e Israele così come insomma tutta una serie di tensioni a livello eh al confine con la Siria. Tutto questo in realtà non aiuta a eh ad avere poi una un serio una seria stabilità e e per stabilità intendo non tanto eh una risoluzione definitiva del conflitto quanto invece dei primi passi delle basi invece di eh di di contrattazione per appunto la liberazione degli ostaggi e un avvio ovviamente lento di quello che potrebbe essere il futuro eh diciamo una fase una fase B del del conflitto che potrebbe appunto eh diciamo eh sfociare in un accordo molto più duraturo non solo su ovviamente la liberazione degli ostaggi ma anche di un un accordo più prettamente politico che eh poi sfoci un qualcosa di più di più effettivo e questo ad oggi insomma è abbastanza è abbastanza lontano e insomma oggi eh in realtà i rapporti di forza eh tra eh la palestinesi e Hamas in questo in questo specifico contesto e Israele beh sono un po' pareggiati proprio dalla presenza degli ostaggi no? Cioè la forza oggi di Hamas è rappresentata da dagli ostaggi e questo storicamente è è stato sempre così basti pensare insomma al soldato Shalit degli anni degli anni duemila cosa ha comportato il rapimento di quel soldato no? E appunto è un'arma politica ovviamente che Hamas usa per per fare diciamo pressione su 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 Israele e è questo un po' la la il gioco della deterrenza no? Tra gli attori eh in campo e di fatto questa allontana no? Un po' la la tutte le dinamiche rispetto ai negoziati sulla liberazione degli ostaggi abbiamo visto insomma che l'accordo era molto spesso era stato molto vicino no? Però in realtà poi per un modo per un motivo o per un altro si è allontanato e questo diciamo è dato è stato dato soprattutto da proprio da questo da questo meccanismo no? Di rapporti di forza che sono in campo ora è innegabile dirlo che la simmetria tra gli attori è evidente oggettiva e quindi ovviamente l'attore più debole in un qualche modo utilizza i propri i propri strumenti e in questo caso ahimè gli ostaggi per far pressione diciamo in qualche modo al campo nemico per far sì appunto che tutto che si che guadagni insomma il massimo da questa da questa situazione. Ecco da pressione ad un'altra pressione perché ovviamente stiamo parlando di di guerra purtroppo poi continuano ad esserci eh azioni estremamente violente eh Mattia ecco notizia di questa notte il bombardamento di Cagliunis il nuovo bombardamento di Cagliunis ha fatto 70 vittime c'è stato anche un'azione a Jabalia nel nord della striscia ci sono almeno quattro morti quindi diciamo si continua purtroppo a a colpire anche i civili eh nella a speranza tra virgolette di andare a eh a colpire perdonare la ripetizione eh i dirigenti di di Hamas però ecco da pressioni esterne a pressioni interne perché comunque Netanyahu oltre ad essere contestato dai familiari degli ostaggi praticamente ogni giovedì ricordando anche purtroppo che abbiamo notizia di altri due ostaggi morti in mano ad Hamas certificati eh c'è anche un parte di popolazione che si ritrova in continuazione lì davanti alla residenza eh di Netanyahu a protestare per come sta conducendo eh la guerra visto che comunque anche gli israeliani parte di Israele vorrebbe probabilmente che il conflitto si chiuda qui anche perché noi parliamo spesso Mattia poi ti lascio la parola delle problematiche di tutto quello che stanno subendo i palestinesi ed è vero è tangibile lo dimostrano anche le immagini non dobbiamo star qui a dir di no però ci sono anche tanti israeliani che hanno dovuto lasciare le proprie case per trasferirsi in un altro posto per motivi di sicurezza e finché il il conflitto va avanti a casa loro sicuramente non ci tornano ma è diciamo che in in un cosiddetto conflitto asimmetrico eh tali eh tali dinamiche sono comuni questo insomma eh non solo nel nel contesto palestinese ma anche l'abbiamo visto in altri contesti eh ad esempio insomma più recentemente nella nella Siria nel post 2011 eh ovviamente nello Yemen eccetera eccetera no quando vi sono eh gruppi armati eh eh non statuali ovviamente la simmetria provoca anche tali tali meccanismi ovviamente dall'altra parte è vero questi sono tutta una serie di eh pressioni ma che di fatto poi la la strategia no di la tattica scusami di Hamas no è quella di appunto provocare delle delle tensioni lo stesso proprio in questi giorni no diverse analisi sulla sull'azione del drone Yemenita a Tel Aviv no è un po' il fatto di eh indebolire il gigante no in un qualche modo anche se probabilmente questo gigante non crollerà tuttavia però è la la tattica bellica è è è proprio questa eh di fatto è che gli attori che eh che eh portano avanti eh tali azioni abbiano se la domanda è se abbiano un poi un ehm un rischio calcolato perché in realtà eh come ne sappiamo ogni conflitto gli attori coinvolti hanno diciamo no fanno la loro eh bilancio dei rischi che portano a determinate cose se è vero appunto che questo provoca una pressione interna a livello eh israeliano ovviamente gli ostaggi e poi le persone si si parla di 70.000 persone mi sembra nel nord eh di di israele eh ad esempio dall'altro però ovviamente la l'offensiva israeliana contro Gaza ha provocato tutta una serie di pressioni interne ad Hamas per esempio no è una cosa che probabilmente molto eh non 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 si fa eh non ci si focalizza molto però eh mi sembrano degli elementi importanti di analisi è quello di analizzare un po' anche quello che succede dentro il movimento eh di di resistenza islamista e palestinese che appunto questa sorta di eh paventata divisione no delle varie leadership la leadership interna di Gaza e quella in Qatar che in realtà hanno in un qualche modo eh degli obiettivi un po' diversi una quella in Qatar che contratta di fatto per avere poi un cessa del fuoco invece quella di Gaza che continua a spingere per sulla sul fattore della resistenza no e questo è importante perché comunque influisce anche sui rapporti sui rapporti di potere che si consumano all'interno ovviamente della striscia di Gaza per quanto riguarda Hamas e ovviamente come tu dicevi per quanto riguarda Israele su queste eh su questi fattori appunto ostaggi e eh persone eh displaced insomma che sono state costrette ad abbandonare le proprie le proprie case questo ovviamente fa parte di un diciamo delle degli elementi caratteristici dei conflitti eh asimmetrici in un qualche modo soprattutto quando si tratta di attori non statuali anche se poi con Hamas anche questo questo elemento qui di caratterizzazione è un po' è un po' anche fuorviante e però insomma non abbiamo non è questo il contesto in cui possiamo spiegare alcune cose però ecco quello che è importante dire che bisogna capire invece in che modo gli attori abbiano calcolato questi rischi ovviamente sono abbastanza sicuro che da parte israeliana tale 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 elemento sia stato un po' portato in secondo piano e questo insomma ha causato anche soprattutto la debolezza oggi di Netanyahu a livello a livello interno forse un po' meno eh anche se il consenso è calato di molto tra i palestinesi di Gaza che appunto invece vedono in Hamas eh da una parte ancora un 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 attore che possa in un qualche modo portare avanti determinate delle vendicazioni e dall'altro però ovviamente un calo del consenso all'interno della striscia questo insomma probabilmente era un processo già in atto prima del 7 ottobre Mattia siamo già giunti alla conclusione del nostro spazio io ti ringrazio perché è è volata sono volati questi 20 minuti eh passati insieme sicuramente ti tornerò a disturbare molto presto nel frattempo ti auguro buon lavoro e buona giornata grazie 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 ancora per l'invito arrivederci grazie mille a Mattia Giampaolo del Cespi con cui abbiamo parlato del viaggio di Netanyahu negli Stati Uniti e dall'altra parte dell'oceano ecco continueremo a toccare proprio l'argomento States però in comparazione in connessione con la Cina con il nostro prossimo ospite subito dopo la pausa